buona visione Antonio, dobbiamo parlare Ezio, Ezio Auditore Teodora, ti presento l'uomo più abile di tutta Venezia Madonna Sorella Teodora Non ti facevo un tipo così religioso? Dipende da come intendi la religione, figlio mio Non è solo l'anima a richiedere conforto Dai, vieni Ezio Abbiamo vino e donne Macellaio, mostro Ha sventrato Lucia e è scappato con i soldi Dunque, Serezio Vediamo se davvero sei così abile Inseguilo Maria Benedetta Farei bene anch'io a trovare un modo per stare a me Non provare ad avvicinare I dati O ne a coltello un'altra Non farmi uccidere qualcun altro Portate Ho fatto quel che posso Riaprite la territoria Grazie Grazie Grazie.